Wey, wey Michele, ciao a tutti quelli che guarderanno questo video questo video lo faccio appunto per portare una testimonianza dato i risultati positivi che ho ottenuto insomma, per farla breve, diciamo che il percorso che io Michele l'ho conosciuto ancora 4 mesi fa ormai e con lui, diciamo, il grande salto è stato, diciamo, proprio l'avere un'altra persona un'altra persona che può seguirti e valutarti dall'esterno, darti consigli pratici e utili ok, una persona che ti può affiancare e soprattutto aiutare nelle scelte e un'altra cosa, una cosa che è molto utile, che mi ha dato tanto è proprio l'avere una persona che ti possa anche in qualche modo far vedere delle opportunità che magari prima non avresti potuto vedere o magari che prima non avresti saputo cogliere invece posso dire che grazie alle sue dritte insomma e grazie agli schiaffoni che mi ha tirato mi ha portato già a grandi risultati e assolutamente su questo davvero risultati anche economici e quindi tornassi indietro rifarei la stessa cosa io personalmente perché era una cosa che cercavo già da tempo, onestamente proprio avere una persona che ti possa, diciamo, tirar fuori il meglio e valutare in modo proprio critico senza star qui a farci le carezze a vicenda ma proprio dire questo lo sai fare, questo non lo sai fare questo è il tuo punto forte, questo è il tuo punto debole va migliorato ecco, avere una persona che ti tira in faccia proprio questi difetti e pregi è utilissimo soprattutto una persona che adesso lo conosco bene Michele insomma è un po' che ci parliamo un po' che ci confrontiamo un bel po' ormai e quindi proprio il suo aiuto è stato grande anche perché poi possono nascere delle cose inaspettate questo è il punto diciamo il vantaggio nell'approcciarsi anche con una persona come Michele è che una persona prima di tutto che sa il fatto suo che lavora già nella musica da molti anni e di conseguenza riesce anche a trovare e vedere una collocazione mirata a quello che vuoi fare perché per carità quello che ho fatto io i programmi miei i progetti miei è completamente diverso sicuramente da qualsiasi cosa un'altra persona possa fare perché ogni persona ha il proprio diciamo alla propria linea e quindi è giusto seguire quella diciamo che Michele è stata la persona che mi ha permesso di visualizzarla bene prima di tutto e mettere in pratica seriamente le cose senza troppe chiacchiere e cazzate per farci capire quindi nulla io porto volentieri questa mia testimonianza perché perché davvero se può aiutare qualcun altro questa cosa ben venga e quindi il mio punto di vista è questo a me ha dato davvero un grande boost proprio a livello in tutte le fasi anche a livello proprio mentale l'approccio con la musica l'approccio con il mercato musicale che è tutta un'altra cosa cioè iniziare a vedere le cose come davvero sono iniziare a vedere le cose come davvero sono nel punto di vista lavorativo proprio e quindi guardare tutti gli aspetti che prima da solo una persona non può riuscire a coprire cioè è matematico con tutta la forza di volontà l'impegno che una persona ci può mettere da solo resti da solo invece quando inizi ad affiancarti a persone competenti prima di tutto allora di essi iniziano a vedere i risultati inizi a conoscere altre persone ancora inizi a farti una rete inizi proprio ad approcciarti in un modo diverso davvero a me ha cambiato tantissimo e ho tantissime novità che spero anche di portare in questa rubrica di Michele finisco qui e vi auguro buona musica a tutti raga e alla grande non si molla un cazzo da malogrido